bene oggi variante 502 non mi ricordo più si passa in un capanno da assolutamente evitare quando c'è la caccia aperta non si viene a rompere le foglie come assolutamente ingannano un po 5.30 non ho mai visto 5.30 oh il ramazzo raccolto altro cappanno ovviamente stesso discorso di prima un bel zozzo qua non vengono a pulire ma c'è ramato lo stesso non si capisce incastro eh si è proprio qua ecco qui il crocio bene oggi variante verso e quando c'è il paio da la caccia non c'è più bene ah Ancora incrocio qua Le foglie aiutano Non vedi un cazzo Qua sopra Spera in Dio Eccolo qua Questo è il 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 Ecco il Prado del Nespol Prado del Nespol Ecco Ecco Miravalle Proviamo Ma io mi devo sento infilare in sti cazzo di cosi Bello segnato o bello? Ha segnato anche Il nuovo Ma tu dimmi Ando cazzo E' il sentito Che Go Go GoPro GoPro La La Ma che cazzo Ma a piedi forse Comunque lì c'è una fontana Signata A Diro Andiamo a recuperare la bike E torniamo a andare E qui neanche a piedi La mia bestia Acqua a 20 metri Ottimo Direi che questo Non è tenuto benissimo C'è un po' da lavorare Ci dietro Vieni siamo tornati su Sul principale Vai E' meglio Megye Mirav Sopo Upp 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 E' più Sopo 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 Upp Oh Sti Lassi Upp 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 Questa è la fontana, signore. Questa sì che è una fontana. Ehi già. Mitica. Il sentiero di mezzo. Molto bene. I tronchi da mezzo. E' il mezzo. Oh. E' mettere fuori. Non c'è da un cazzo. Oh. 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 Wow. Oh. Oh. Dai stretti. Dai stretti. Motto stretti. Oh. 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 Eccolo qua. Eccolo qua. Oh. Hmm. non cominciamo deve fare la scoperta prima la c'è sta la c'è sta verpical è il ramo è il ramo i radini ai c'è il questo è il questo è il è il oh 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 ma ma andiamo a vedere andiamo a vedere so già che doverò tornare indietro adesso sbera me adesso già oh ahia oh comunque molto interessante stretto ma interessante oh mai segnato nel nulla ahahah 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 il Garmin dice il nulla ahia ahia molto interessante magari una radina pulita ahia 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 ma che cazzo ah ah eh sono restato incolato ahahah 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 ero già contento quindi ho passato la ruota davanti dico ma arrivi che roba ecco qua bastardo eh come adoressa che è buono a presto a presto uscighetto e pulirlo molto interessante ma dove cazzo sbucherà oh 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 merda a presto ah 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 cazzo sono tutti i barraci della natura questi ahia li proviamo a presto ah 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 bello tanto che buco di acqua che fa no dai Sì va bene va bene va bene diceva la signora Irene mentre mi...